Tutto casino! Tutti qui! Immediatamente! E senza storie! Non ci faccia caso. Sono tutte bravissime persone. Venga, gliele presento una per una. Eccola. Dunque, per primo ho l'onore di presentarle Benzel Simbrock, maestro del ghiaccio. Eviti di parlare forte con lui, è molto delicato. Molto lieto di conoscerla. Di fronte a lei c'è Mademoiselle Benzel Thompson, maestro illuminatore. Fuoco, candele, torce, stroboscopiche, neon, flash. Bambini? Prego. No, niente. Benzel Shot e Benzel Shot. Fratelli. Sono i migliori artificieri epilotecnici al mondo. Congratulazioni. Non faccia caso al braccio mancante, vengono dall'esercito. Benzel Broderip, maestro uccelliere ufficiale. Ah, Benzel. Bellissimo nome. Ah, sì. Benzel Goetz, maestro della neve. Sarà stupito da cosa sa fare. Ne sono sicuro. Madame. Madame Benzel Beme. Liadissima. Maestro silenziatore e addetto ai venti. Maestro cosa? Poi più tardi che lo spiegherà e... Benzel Inbolt. Navi e corde. È un prete. Signore e signori, il nostro musicista. Anton Peters. Collaborate con lui e siategli di aiuto. È convinto che la nona di Beethoven sia un capolavoro. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no!